Ferruccio, centinaia e centinaia di presepi e ne sono arrivati non so quanti dalla Cina, dillo tu. No, dalla Cina ne sono arrivati sei, ma sono presepi veramente importanti che dovranno fare meditare in quanto come sono fatti, con che cura e come sono stati imballati arrivati dalla Cina, è una cosa da sballo di testa, che fa veramente a pensare che i cinesi non sono come quelli che crediamo noi, che fanno tutto così dalla sera alla mattina pur di lavorare, non è vero, curano la roba più che non la curiamo noi in Italia. I tuoi presepi sono ormai anche in sede fissa in diverse località? Non in diversi, in una sola, a Lendinara di Rovigo dove ne ho 120 che sono in pianta stabile per tutto l'anno, perché lì vanno scuole, vanno anziani, insomma dentro nel circuito del turismo. L'anno scorso ha ricevuto 19.000 visitatori, l'anno scorso, e quest'anno si presta tutt'ora adesso che aprono le scuole a già le pronotazioni che riceve gli studenti per vedere queste magnificenze, non le mie perché ci sono in questa magnifica villa del 600, 120 dei miei presepi più mille metri quadrati di presepi senici. C'è ad esempio la rappresentazione del presepe di Venezia con la laguna dove ci sono 30 quintali di acqua, per darti un'idea. Poi ha fatto un presepe che è 100 metri quadrati, senico. Nel salone grande di questa villa ha fatto un presepe di 100 metri quadrati, è grande come un appartamento, quindi è una cosa magnifica da vedere. Poi i miei presepi sono attualmente, adesso già consegnati per quest'anno a Este, sono a Este a Casalmorano, a Brescia, sta venendo giù Verbagna che ne vuole 500, Verbagna su del Lago Maggiore. Poi a Denice ce ne ho già 50, è la nona edizione, sono 9 anni che dicevano i miei presepi. Quindi è una cosa che secondo me dovrebbe fare militare, riuscire con i presepi a guadagnare per dar da mangiare ai poveri. Questo è uno dei tuoi ultimi cruci, cioè quello nel quale ti sei messo già da qualche anno. No, sono 9, 10 anni. È dal 2005 che ho parecchie famiglie a cui garantisco un pasto dignitoso al giorno per ogni componente della famiglia. Oggi sono una sessantina, 70, ne ho 26 che mi manda il comune, il resto sono tutti raccomandati da amici, raccomandati dall'università, dai professori, dalle scuole, gente che ha vergogna di andare a chiedere aiuto ai servizi sociali, gente che ha vergogna di venire a pigliare ad esempio la pasta, venire a prendere quello che gli diamo. È una cosa veramente disastrosa. Quindi oggi che ad esempio la comunità europea non consegna più la pasta, non consegna più niente, siamo in difficoltà ad esempio a reperire la pasta, quindi la pasta la devo comprare. Come devo comprare? Ad esempio molti prodotti come i fagioli, li compro, mi fanno pagare poco, però li compro e quindi quei soldi che spendo li ricavo dai presepi.